Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Egle. Monitorare valori come glicemia, trigliceride e colesterolo previene l'insorgenza o il peggioramento di alcune complicanze croniche. Niente code o attese o prenotazioni, il controllo di certi parametri si può effettuare anche in farmacia, mediante l'autoanalisi. Il farmacista in qualità di professionista sanitario ti assisterà con competenza nelle varie operazioni di prelievo. L'esito dell'esame comunque verrà fornito in pochi minuti. Consigli utili per evitare alterazioni di questi valori potrebbero essere iniziare i passi con l'assunzione di fibre vegetali come spinaci o bieta cotta, finocchi o cetrioli perché vanno a rallentare o a ridurre l'assorbimento di carboidrati, colesteroli e trigliceridi. Evitare limitare il consumo di zuccheri, evitando bevande anche zuccherate, prediligere l'uso di oli vegetali, quindi evitando lardo, strutto, burro, non eccedere nell'uso del vino, soprattutto con i superalcolici e svolgere un'attività fisica quotidiana di almeno 30 minuti, preferibilmente al mattino. Se avete dei dubbi o delle domande lasciate pure un commento o venite in farmacia a trovarci. Ciao, alla prossima!